Parte in questo istante la prova della prima semifinale a punti di 5.000 per la pericolaria Signore Manaschia Bianca Sonsito, lo studio dell'operazione che era proposto ai 17 giri Punti dei numero 16, attenzione atleti, primi punti in baglio per noi Guadagno dei punti il concorrente numero 424, quindi Maroni e Simone E noi guadagno dei punti il concorrente numero 427, quindi Maroni e Simone Guadagno dei punti, su questo passaggio numero 15, con un 964, Maroni e Simone Maroni e Simone, con un 919, Maroni e Luca Questo è il perché è successo nel traguardo di meno 15, appena superato i concorrenti Meno 14 e ancora tutti in baglio Guadagno dei punti il concorrente del recente 15, Sino Saura Il guadagno dei punti il concorrente numero 15, 6, 5 con 3 Questo a meno 14, ci rimancheranno 13 alla conclusione Abbiamo accettato il concorrente numero 15, 5 con la venta, siamo a meno 13, 5 con i pari Quindi si porta a quota 2, quindi non è visitato trappi il primo passaggio valido Per il concorrente numero 20, andiamo a meno 13 dalla conclusione, punti in baglio Siamo a meno 13, 5 con i pari 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 Siamo a meno 13, 6 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 con i pari il concorrente numero 52 Bayetta e Gabriele si porta a 8 punti conquistati un punto lo conquista e compromettica un gioco a 27 gali di Gabriele e l'avevo 8 si porta a 9 punti guadagnati fino a questo momento della gara guarda ieri finico, guarda ieri, guarda ieri, guarda ieri guarda ieri, guarda ieri, guarda ieri, guarda ieri su questo traguardo, Gagli Gabriele 9 punti a sottosino, si porta a quota 11 uno lo guadagna il concorrente 9 e 64 Loreno Riccardo, anche lui dei 10 che aveva si porta a quota 11 punti conquistati in tutta la gara ma per un controllo del tempo cazzo di almerda sulla gara A guadagnare ieri, ci sonoasse un po' di 464 Loreno Riccardo, invece si porta a 12,5 punti per sapere il punto lo guadagna il чтобы curly ha 52 Bayetta e Gabriele è nagedotto ha socialmente apposta 9 e quindi questo r Straffi sta procedendo in scelsionale con ieri 3 punti su�ione nationali punti che sono porti sui vari traguardi eigenlijk al tre il problema a guardare i punti complimenti da Iete Gabriele, tra i 9 se ne si costa ufficio, quindi a noi a te un'esempio di tutte le difficoltesse, Dali Gabriele, ieri aveva 11 punti, 12 punti conquistati, a totale, nel due minuti di tutta prova, fino ai due giri del termine che sono il prossimo traguardo, insieme a questi fuggitivi e che per te si deve vivere. Corriere Fondi con corrette 426, Galli Gabriele, nera 12, si posta 424, in ultima Siamo a... Grazie. 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 64, parrella Fabio, il mio 2 sarà in scuota 3, questo dopo aver superato il preguardo è il numero 12, 11, suggeriamo termini, attenzione a tre, che si fa in baglia con la tua voce, è stato rispetto in quartetto per i dettagli dei correnti, è il numero 12, che si fa in baglia con il concorrente numero 364, parrella Fabio, il mio 2 sarà in scuota 3, punti con il dato fino a questo momento di gara 10 giri alla conclusione anche per la scuola speciale schermati dell'appunti vediamo chi confiterà questi punti siamo in prossimità dei 9 giri alla conclusione il concorrente 970 adesso l'incarca si porta a 6 punti conquistati fino a questo momento di gara 10 giri alla conclusione il prossimo 3 giri alla conclusione siamo a 6 giri alla conclusione il concorrente numero 264 il concorrente numero 266 il concorrente numero 267 tra il concorrente numero 256 si porta a quota 6 nella scuola personale massifica anche l'anno sono sicili al termine quindi abbiamo una volta recuperata per questa gara la guarda numero 6 ancora questo quarto sicuramente colorato il concorrente numero 266 che va a guadagnare questi punti guarda i punti il concorrente numero 277 bravo a essere la scuola quota 8 il concorrente numero 970 a bossi di carta abbiamo 6 si porta a quota 7 punti conquistati siamo in prossimità degli ultimi 5 passaggi quindi 5 giri al termine del concorrente numero 6 punti che verranno nel casino e quindi nella scuola per la scuola è il concorrente numero 970 per il concorrente arriva a 7 quindi si porta a 9 punti conquistati un concorrente numero 76 di Stefano Paus arriva a 5 e si porta a 6 punti conquistati Stiamo ora cominciando i quattro piri alla conclusione, quindi i quattro piri al termine per l'istante, sempre i quattro da toccare dalla linea, guadagno il pico corrente numero da 76, tra Fausto, aveva 6, si porta a quota 8, guadagno il pico 5,64, quale non è la Fabio, anche lui dei 7 punti in arrivo, porta a 8 punti con il gatto in totale in questa speciale gara. Solo i fruggeri separano i concorrenti, con la festa della gara del traguardo finale, stanno sottraffingendo il traguardo della vena tre, vediamo i punti, i punti vanno al concorrente numero 5 64 cattolera Fabio, il viovo 8, scuola 10, scutata il viovo 8, scuola 10, scuola 10, scuola 8 il viovo 8, scuola 9, scuola 10 e in questo atto, così fatti, nello giro di questo gara di gira in termine sta arrivando la testa di questa prova la seconda semifinale a punti signor Maschi il concorrente il concorrente il concorrente il concorrente Riccardo Bossa si porta a vuota 10 punti siamo in prossimità dell'ultimo gira abbiamo con 12 punti troppo lessi con 12 punti comprando Fabio Padilla il vostro Riccardo con 8 punti distinzionato caosto con 2 punti Andrea Maschi in un punto abbraccio gli ultimi particolanti vengono insegnati due a concorrente le 5.70 ma si rizzera quindi vg-10 carivo si porta a fuota e un punto al controllo numeros 76 caosto distinzionato il numero 8 e sale a 4.9 quindi le prime quattro posizioni di Eni sono sufficientemente giudicati e il caso è importante per tutti gli altri che dobbiamo rientrare nella ristretta circa dei primi dici per poter disputare successivamente la fase finale di Caldara per questa gara che riguarda Valentino il campione a regionale per Lombardia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti